Ciao a tutti! Oggi prepareremo il succo di mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono mele tagliate a pezzetti e sbucciate, acqua, zucchero sormolato, succo di limone. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mele, lo zucchero, l'acqua ed il succo di limone. Ed azioniamo il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, velocità 2. E azionare il bimbi per 2 minuti, da velocità 3 a velocità 10. Questa notificazione della ricetta è un'infanzia. lasciare raffreddare trasferire in bottiglie di vetro e riporre in frigo succo di mele si conserva in frigo per sette giorni grazie e alla prossima ricetta grazie grazie